altra cosa che sto notando, guardate un po' qui ecco, in questa cartella ci sono delle ventole commerciali che non dovrebbero essere qui, dovrebbero essere nella cartella dei modelli commerciali è successo anche a me in passato nella fretta di scaricare i modelli CAD dal sito del produttore e inserirli nel mio progetto che cosa ho fatto? Io li ho presi e li ho inseriti direttamente nella cartella del mio progetto ma questo non va bene in quanto se ne avrò di nuovo bisogno in futuro difficilmente mi ricorderò in quale progetto avevo inserito questi file commerciali per cui è bene mettere i file dei commerciali in apposite cartelle quindi noi possiamo nella fretta tirar dentro anche nella cartella di progetti commerciali ma poi ci deve essere un momento in cui prendiamo questi commerciali e li spostiamo nella cartella specifica nel nostro archivio dei commerciali senza, attenzione, senza compromettere l'assieme in cui li abbiamo inseriti come in questo caso le ventole sono presenti in questo assieme qui quindi ancora una volta sfrutto file utilities per spostare queste ventole cosa voglio dire? Vedete parto dalla prima in questo caso clic destro, solidworks, sposta vedete lui ci dice ok attualmente si trova qui questo è il nome del file, sposta in, ci chiede dove vuoi spostarla e ci dice anche guarda che questo file è usato in questo assieme vedete lui mantiene tutti i riferimenti quindi avendo io lasciato attiva la voce aggiorna dove usato in modo tale che se riaprirò questo assieme non c'è nessun problema solidworks come dire si andrà a ripescare la ventola nell'altra cartella io qui gli vado ad indicare la cartella di riferimento allora nel mio caso è sì solidworks però libreria commerciali fan ipotizzo che questo sia il nome del produttore di queste ventole ok oppure della categoria del commerciale ok vedete confermo benissimo non c'è più qui dentro ha spostato la ventola faccio lo stesso per le altre quindi sposta anche questa me la metti nella cartella di libreria commerciali fan confermo e anche questa me la sposti sempre in quella cartella quindi libreria commerciali fan confermo vedete qui non ci sono più io adesso torno indietro sulla radice se vado in libreria commerciali in fan eccoli qua ok come giusto che sia è qui dentro che devono essere questi file commerciali a questo punto guardate non mi resta che tornare in solidworks e aprire l'assieme per dimostrarvi che usando gli strumenti giusti possiamo rinominare e spostare i file senza compromettere il progetto guardate mi vado a riprendere i recenti questo ed eccolo vedete la nuova codifica l'eventole contenuti in questi sottassiemi si trova in un'altra cartella ma solido si ha aperto il progetto senza nessun problema senza nessun avvertimento che ancora oggi vedo spesso che solido se non trovo i file perché i file sono stati spostati sono stati rinominati non con i metodi corretti vedete a lavorare con gli strumenti giusti con la metodologia giusta con la conoscenza opportuna